Vittoria autopsia sul giovane precipitato da scuola, i genitori non credono al suicidio. Ragusa, imputato per stalking, va in tribunale con un coltello, denunciato dai carabinieri. Filmato a Palermo, il piano è integrato per Pozzallo, in arrivo 6 milioni di euro. Anni Scemi, solidarietà per l'assessore Giugno, vittima di intimidazioni. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. A Vittoria i genitori del giovane Roberto Gambina hanno richiesto l'autopsia sul loro figlio, che è precipitato dal secondo piano di un istituto scolastico a Vittoria, lo scorso 20 novembre. La procura di aieri ha sentito molti testimoni, non si esclude l'ipotesi di omicidio, ma al momento non ci sono indagati. Non credono all'ipotesi del suicidio i genitori del giovane Roberto Gambina, il 20enne studente vittoriese, precipitato nel vuoto lo scorso 20 novembre dalla scala esterna d'emergenza al secondo piano dell'istituto scolastico paritario di Vittoria, e deceduto nel tragitto in elisoccorso a Catania. Che non si sia trattato di un gesto volontario, ne sono convinti i genitori, i quali hanno fortemente voluto che fosse effettuata l'autopsia sul corpo del loro figlio. Il giovane frequentava con profitto la scuola e non avrebbe avuto nessun motivo per compiere il gesto estremo. L'esame autoptico è stato eseguito ieri mattina nella camera mortuaria del cimitero di Vittoria, dal medico legale Orazio Cascio, dal tossicologo Guido Romano, entrambi dell'Università di Catania, affiancati dal perito di parte Guerrera, quest'ultimo nominato dai legali di fiducia della famiglia Gambina, gli avvocati Patrizia e Salvatore Romano. L'autopsia si inquadra nelle indagini avviate dalla procura di Ragusa per far luce su eventuali irresponsabilità di terzi nella morte del ragazzo. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. Qualcuno potrebbe infatti aver spinto il giovane studente che è precipitato nel vuoto, probabilmente senza farlo di proposito. Potrebbe essere stato un incidente. In questo caso ovviamente si paventerebbe anche l'ipotesi dell'omicidio. Volontario o pretere intenzionale, parecchie persone sarebbero state già sentite dagli inquirenti, ma solo va scopo informativo. Al momento non ci sono indagati. E a Ragusa un sessantenne pozzallese imputato per stalking va al tribunale armato denunciato dai carabinieri. I militari della stazione carabinieri di Ragusa principale hanno denunciato un uomo che si è presentato in tribunale armato di coltello. Ieri mattina presso il tribunale di Ragusa come di consueto un carabiniere era impegnato nell'assistenza ai dibattimenti. Tra le varie udienze in programma ce n'era una di procedimento penale per il reato di atti perseguitori in cui la ex moglie era stata vittima di stalking da parte dell'ex marito. Quando quest'ultimo si presenta al Palazzo di Giustizia, alla porta, il metal detector segnala un'anomalia e la guardia giurata chiama il carabiniere in aiuto per controllare l'uomo. Perquisito sul posto dalla tasca dei pantaloni è uscito un coltello a serramanico, coltello che ovviamente non può essere portato in pubblico, specie se si va ad un processo in tribunale, dove sei pure imputato per un grave reato contro la persona. Tale comportamento è inquadrabile nel reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere e sanzionato dalla legge sulle armi del 1975. Il coltello pertanto è stato sequestrato e l'indagato, un pescatore pozzallese sessantenne, è stato accompagnato in caserma e denunciato alla procura della Repubblica di Ragusa. Dopo la redazione dei verbali previsti è ritornato al tribunale per il processo a cui era convocato. La sicurezza dei tribunali, così come quella di tutti i luoghi affollati, è importante, prevenire qualsivoglia tipo di minaccia è fondamentale. Per questo il tribunale, in sinergia con le tue guardie giurate preposte all'ingresso, i carabinieri quotidianamente sono presenti, discreti ma molto attenti. E' incidente stradale questa mattina verso le 8.30 incontrata a Bourouche, alle porte di Ragusa sulla statale Ragusa-Catania. Secondo quanto riferito, nel giro di pochi minuti si è formata una lunga coda che ha bloccato il traffico per quasi due ore. Molti automobilisti hanno infatti optato per strade alternative facendo pericolosi inversioni di marcia, dato che i tempi di attesa diventavano molto lunghi. Due o più le autovetture coinvolte nell'incidente che nello scontro sono finite in mezzo alla carreggiata, bloccando pericolosamente il traffico. E' firmato a Palermo il piano integrato del comune di Pozzallo, previsto un investimento di 6 milioni di euro per la realizzazione di 25 alloggi a canoni sostenibili, pista ciclabile, campo di calcetto e riordino di Viale Europa. Un significativo passo in avanti è stato compiuto per il piano integrato del comune di Pozzallo. Dopo una serie di vicissitudini legate a tutta una serie di passaggi riguardanti la giustizia amministrativa, il piano integrato è stato firmato ieri a Palermo dal sindaco Luigi Ammatuna, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pistorio. Ne dà notizie il deputato Orazio Ragusa. Il comune di Pozzallo ha così definitivamente recuperato 3 milioni e mezzo di euro, che con l'integrazione dei privati arriveranno a circa 6 milioni di euro. In particolare, dice Ragusa, il piano prevede la costruzione di 25 alloggi a canoni sostenibili, una pista ciclabile all'interno dello spazio in questione, che si estenderà anche in buona parte della città, oltre un campetto di calcetto. Inoltre è previsto il riordino di Via L'Europa con la realizzazione di uno spartitraffico e di una rotatoria. I privati hanno già dichiarato di essere pronti a concretizzare gli investimenti previsti, per cui considerando i tempi tecnici riteniamo che il tutto possa prendere il via tra qualche settimana. Un'occasione anche per le giovani coppie, con l'opportunità di accedere all'acquisto di alloggi a canone agevolato. Quindi una ricaduta sociale non da poco. Con l'accusa di abuso d'ufficio era finito sotto processo Filippo Vitali, 81 anni, ex segretario generale del comune di Comiso. Secondo il capo di imputazione nel 2012 non si sarebbe astenuto nella sua qualità di presidente della commissione esaminatrice in un concorso al comune di Ragusa per un posto di dirigente del settore ragioneria, anche se tra i partecipanti c'era il fratello del genero. Ieri davanti al collegio del tribunale è stato sentito il funzionario della Digos, della polizia, che ha svolto le indagini. Il tester, rispondendo alle domande del PM Valentina Botti e dell'avvocato difensore Maurizio Catalano, ha detto che l'imputato non era incompatibile e non ha commesso irregolarità scagionandolo. E a Ragusa, Monsignor Urso, viene nominato cittadino onorario, un omaggio della città al suo vescovo che per molti anni è stato vicino ai cittadini. C'è attesa per il nuovo vescovo Cutitta, sabato due maxischermi per seguire la cerimonia. La diocesi si prepara ad accogliere il nuovo pastore, la città elegge quale suo cittadino onorario, Monsignor Paolo Urso. È stato quest'ultimo l'atto ufficiale del vescovo uscente prima che Monsignor Carmelo Cutitta si insedi sabato alla guida della diocesi Iblea. Nel corso dell'incontro presso l'auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, il sindaco Federico Piccitto ha manifestato a Monsignor Urso il senso della gratitudine di tutta la città e delle istituzioni per i 13 anni di presenza in città, caratterizzati sempre da una sincera disponibilità verso tutti. Anche il sindaco Federico Piccitto ha commentato che il vescovo in questi anni ha fatto molto di più di quanto gli competeva per il suo ruolo e la città lo ha ringraziato con affetto. Per questo motivo, ha spiegato il primo cittadino, l'amministrazione ha interpretato questo sentimento conferendogli la cittadinanza onoraria. Sabato alle 17 sarà una giornata di festa per la città e i comuni della diocesi. Monsignor Carmelo Cutitta, 53 anni, attuale vicario arcivescovile a Palermo, farà il suo ingresso ufficiale alle 17 in piazza San Giovanni. Sarà il sindaco Federico Piccitto a salutare il vescovo a nome di tutti gli altri colleghi che saranno presenti in cattedrale. Qui, dopo aver percorso il breve tratto del vescovado, Monsignor Cutitta arriverà preceduto da tutti i sacerdoti per l'inizio della cerimonia ufficiale. Considerata l'attesa per l'evento e la grande partecipazione, sono stati attrezzati anche due maxischermi per seguire la funzione. Uno sarà posizionato nella chiesa dell'Abadi e l'altro sul sagrato di San Giovanni, sperando in clementi condizioni meteo. E ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. E ora ci fermiamo per la vitaelle. Grazie a tutti. Via Sorda, San Piero 238 a Modica. Flavline, fabbrica artigianale di lampadari, da 40 anni personalizza i vostri sogni di luce. Produciamo creando a mano i nostri articoli. Flavline offre il meglio della tecnologia, realizzando illuminazioni artistiche per interni ed esterni. E siamo anche lì stanotte. Veniteci a trovare a Modica in via Sardazampieri 3. E a Modica il servizio riscossione e tributi che dovrebbe essere affidato ad esterni guadagnerebbe ad agio. L'opposizione chiede di sospendere un servizio che sarebbe vessatorio nei confronti dei cittadini. Il consigliere comunale di SEL, Vito D'Antona, ha chiesto all'amministrazione comunale ancora una volta in via cautelativa alla luce delle manifestate perplessità di revocare la delibera dello scorso 9 novembre, di sospendere i successivi provvedimenti adottati relativamente all'affidamento all'esterno del servizio di riscossione e di sottoporre urgentemente la questione per competenza al Consiglio Comunale. Al di là dei termini utilizzati nei provvedimenti dal contenuto dello schema di contratto legato alla delibera della Giunta Comunale 210 del 9 novembre 2015, si legge nella nota inviata dal consigliere, esponente di opposizione, sembra configurarsi un vero e proprio affidamento a terzi del servizio di riscossione dei tributi comunali. Il consigliere ritiene che non si tratti soltanto di semplice gestione di banche dati, bensì di attività connesse all'accertamento e alla liquidazione dei tributi, oltre a tutta l'attività della riscossione coattiva, dietro un corrispettivo definito agio, che è la percentuale sulle somme riscosse che gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere, a titolo di compenso forfettario per il servizio prestato. Un modo quindi che risulterebbe molto vessatorio sui cittadini, anche se l'amministrazione pare lavarsi nelle mani affidandolo all'esterno. E a Niscemi arrivano manifestazioni di solidarietà per l'assessore Giugno. Arrivano le manifestazioni di solidarietà per il grave episodio che ha visto protagonista l'assessore del comune di Niscemi, Giuseppe Giugno, destinatario di un pesante avvertimento. Domenico Messinese, sindaco di Gela, ha parlato di una ferita lacerante alla democrazia e ha espresso la vicinanza di tutta l'amministrazione di Gela nei confronti di Giugno. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, si dice a un passo dall'addio del suo incarico, sostenendo che le dimissioni non devono essere intese come una sconfitta, ma come l'unico mezzo che ha per poter alzare le difese del territorio che rappresenta. Il primo cittadino ritiene che bisogna intervenire sul tessuto socio-economico della città. Per il sindaco probabilmente ad alimentare il clima di tensione è stata la decisione dell'amministrazione di costituirsi parte civile ai processi di mafia, di dare vita a un'associazione antiracket, di aver messo a disposizione del bene generale un bene confiscato assegnato al comune. I colpi di pistola contro Giugno, che hanno anche raggiunto il portone dell'abitazione dell'assessore, terrorizzando i suoi familiari, non sono infatti il primo episodio di intimidazione subito da questa amministrazione. Su tutti questi fatti sta ora indagando il commissariato di polizia e la caserma dei carabinieri. L'ultima operazione che abbiamo fatto serve per fare una verifica dopo l'incontro che abbiamo fatto il 5 ottobre al Ministero. Cos'è che è emerso? Un leggero ritardo per quanto riguarda l'eventuale operazione relativamente all'argo gasopea si è avuto. Come sapete tutti c'è una sentenza di Stato che è stato fatto ricorso per quanto riguarda quel progetto, però l'azienda è fiduciosa in questo, che si possa andare avanti, anzi sta portando avanti la fase di ingegnerizzazione e questo lascia ben sperare. Quello che a noi ci ha preoccupato fino adesso invece è la fase di cantarizzazione dell'attività, sia riferita come riconversione della raffineria, per cui l'agri-refanery, sia come progetto argo gasopea. Dalla Regione il nostro Governatore della Sicilia, Rosario Cocetta, ha fatto sì e ha riconfermato la propria disponibilità a attivare, possibilmente magari nella giornata stessa che stiamo parlando di oggi e nelle giornate successive di domani e dopo domani, ci sono tutta una serie di conferenze di servizi per rendere attuativa un'autorizzazione. Per cui nel momento in cui si fa la conferenza di servizi, già sapremo le date o eventualmente il necessario o utile per far sì che l'azienda abbia l'autorizzazione in mano e aprire i cantieri. Il primo dicembre si svolge la giornata mondiale contro l'AIDS, una malattia che colpisce ancora migliaia di persone anche in Italia. L'Archigay Ragusa organizza la manifestazione, uniti contro l'AIDS, si vince. Martedì 1 dicembre sarà la giornata mondiale contro l'AIDS, una malattia che colpisce ancora migliaia di persone anche in Italia. Nella nostra penisola il virus colpisce maggiormente gli uomini delle donne e i giovani tra i 25 e i 29 anni e l'HIV non accenna ad arretrare. La fotografia scattata dal centro operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità dimostra che il numero di nuove infezioni è cristallizzato da circa tre anni, come pure quello dei casi di AIDS. Nel 2014 sono 3.695 le persone che hanno scoperto di essere HIV positive, un'incidenza pari a 6,1 nuovi casi di sieropositività ogni 100.000 abitanti. Sempre più importante in questo caso diventa l'attività di sensibilizzazione, per questo l'Arcigay di Ragusa a martedì a partire dalle 17 con il patrocinio del Comune colorerà il corso principale, la zona pedonale di Via Roma con i colori dell'Arcobaleno. Al grido di uniti contro l'AIDS si vince. Naturalmente si farà anche campagna informativa per la prevenzione contro le malattie trasmissibili sessualmente e saranno distribuite locandine, brochure e gadget di vario genere a tutta la cittadinanza. Bene, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.